Una fotografia che sicuramente segna nel 2017, che si è da poco chiuso, un trend positivo rispetto al 2016. Sia per quanto riguarda l'impegno e l'attività dell'arma nella provincia con i suoi 25 presidi, sia per quanto riguarda l'andamento della delittosità. C'è stato un calo generale dei reati dell'11% e conseguentemente c'è stato un aumento delle attività dell'arma provinciale sotto tutti i fronti. Sotto il profilo della prevenzione, con il numero di persone e di mezzi controllati aumentato mediamente del 4%, 100.000 persone controllate in un anno in tutto il territorio provinciale dalle nostre pattuglie, dai nostri dispositivi sul territorio e circa 80.000-90.000 mezzi controllati che circolano sulle strade della provincia. Sotto il profilo poi dell'attività di polizia giudiziaria, tra denunce ed arresti, abbiamo svolto attività investigativa e quindi di denuncia alla Procura della Repubblica a carico di circa 2.500 persone. In particolare abbiamo arrestato 312 persone e denunciate circa 2.200 persone.